Un milione di euro dal PNRR per il comune di Cittiglio. I fondi serviranno per completare la messa in sicurezza del versante del sasso del ferro, dove è già stata realizzata una prima parte di interventi. Si continuerà con altre reti paramassi e ripiantumazioni. Siamo molto soddisfatti di aver ricevuto questo finanziamento dal Ministero di 999 mila euro che andranno proprio a terminare i lavori in Sciareda con la messa in sicurezza di questo canalone molto molto pericoloso per la provinciale, per la ferrovia e anche per il nostro Boesio. Per cui questi soldi che arriveranno sono sicuramente un bel contributo alla sicurezza del nostro paese e del versante della montagna. L'amministrazione si sta occupando anche della SP8 che sale a Vararo, una zona colpita duramente dalla tempesta di vento del 2020. Stiamo collaborando sicuramente con la provincia di Varese dalla quale abbiamo un bel sostegno e supporto per gli interventi, ma abbiamo ricevuto anche in questo caso 200 mila euro da Regione Lombardia per intervenire sul mulino della valle con la costruzione di un muro di contenimento a tutela proprio della strada che sale. Quindi questo è il primo intervento grosso che verrà fatto sulla SP8. Stiamo facendo anche un lavoro con il geologo di mappatura e di valutazione insomma di quello che sono i cambiamenti all'interno del versante della montagna. Infine è in corso il complesso intervento nell'area delle cascate. L'accesso è tuttora vietato. Stanno continuando i lavori di messa in sicurezza. Il nostro obiettivo sarà quello di riaprire insomma nei prossimi anni, non sappiamo ancora quando, ma stiamo lavorando anche alla ricezione insomma di un nuovo contributo che ci possa aiutare proprio nella chiusura e messa in sicurezza di questi lavori. Sarebbe bello insomma restituire le cascate ai cittigliesi e ai turisti. Questo è il nostro obiettivo e speriamo di raggiungerlo presto.